La Nera Artistica presenta James Dean, il gigante che bruciò la sua gioventù, voce di Andrea Simone. È il tardo pomeriggio del 30 settembre 1955. Siamo in California. Una Porsche color argento sta sfrecciando sulla Route 466 a est di Colane, nella contea di San Luis Obispo. Al volante c'è una giovane promessa del cinema hollywoodiano che risponde al nome di James Dean. A parte gli esordi cinematografici in cui non risulta accreditato, al suo attivo solo tre film, La Valle dell'Eden, Gioventù Bruciata e Il Gigante. Soltanto tre titoli che però lo hanno già reso famoso per la sua giovane età, 24 anni. Improvvisamente, tra le altre auto che viaggiano in modo monotono e costante lungo la carreggiata, spunta sulla corsia opposta una Ford Custom Tudor, guidata da Donald Gene Turnup Speed, uno studente di 23 anni. Nomen omen. Sembra quasi uno scherzo del destino che in quel cognome compaia la parola velocità. Il ragazzo effettua una svolta a sinistra per imboccare la Route 41. Si mette quindi sulla stessa corsia, dove sta procedendo Dean. La dinamica dell'incidente ricostruisce che, per evitare lo scontro, l'attore fa una brusca sterzata, ma è una manovra inutile. La Porsche va troppo veloce, il campo visivo è limitato. L'impatto, quasi frontale, è inevitabile. Due poliziotti, con l'aiuto di alcuni passanti, riescono a fatica a estrarre Dean dalle lamiera cartocciate dell'abitacolo. Ron Nelson, un ufficiale, si precipita sul luogo dell'incidente. Si accorge che l'attore è privo di conoscenza e fa un'enorme fatica a respirare. Accanto a Dean viaggiava Rolf Wutterig, il suo meccanico di fiducia, che in mattinata aveva incontrato Dean per mettere a punto il bolide, in vista di una competizione automobilistica che avrebbe dovuto tenersi a Salinas, sempre in California. Per prendere confidenza con la Porsche, Dean aveva deciso di effettuare in mattinata alcuni test. Forse l'incoscienza della gioventù, forse l'ebbrezza di trovarsi al volante di un gioiello che la maggior parte delle persone non poteva nemmeno lontanamente sognare di permettersi, lo spingono a premere sull'acceleratore. Troppo. Alle 15.30 l'attore viene fermato e multato per eccesso di velocità. Procedeva infatti a 105 km all'ora, in un punto in cui la velocità massima consentita era di 90 km orari. E si sa, la polizia statunitense, in quanto la severità sulle leggi stradali, è seconda solo agli svizzeri. Quell'agente californiano avrebbe potuto vantarsi tutta la vita di essere stato l'ultimo a vedere Dean vivo. Le ultime parole del protagonista della Valle dell'Eden sono state, quel ragazzo dovrà pur fermarsi, ci vedrà. Sembra che le abbia dette dopo che Wutterich gli suggerì di rallentare. Arrivano i paramedici, che prestano i primi soccorsi al meccanico tedesco, scaraventato per l'impatto sul ciglio della strada dove si trova inerte. Si salverà, ma il prezzo da pagare sarà una mandibola rotta, oltre ad altre ferite. Ci vogliono 30 km per arrivare a Paso Robles, la città dove si trova l'ospedale in cui si cercherà di salvare l'attore statunitense. Un tratto di strada che si rivela fatale, perché quando l'ambulanza arriva a destinazione, i medici non possono fare altro che constatare il decesso. L'autopsia stabilisce che la testa della star di Hollywood ha sbattuto contro la griglia del veicolo dello studente. Inoltre, il corpo presentava diverse fratture multiple alle ascelle, alle braccia, alle gambe ed estese ferite interne. A causare la morte, però, sarebbe stata la rottura del collo, un tipo di lesione a cui non potrebbe sopravvivere nemmeno il più robusto degli Highlander. È verosimile che Dean sia morto dieci minuti dopo il tragico scontro. Per diversi anni sono circolate voci su alcune foto che ritraevano l'attore intrappolato nella sua Porsche pochi istanti prima del decesso, ma tali immagini non sono mai state trovate. In effetti, è un'ipotesi alquanto suggestiva. Chi le avrebbe scattate e soprattutto perché? Qualche sciacallo bisognoso di denaro e desideroso di venderle al primo giornale sensazionalistico che avesse voluto pubblicarle? E turn up speed? La polizia non indagò sulla sua figura e il giovane studente 23enne si salvò. I mass media lo bombardarono per avere informazioni inedite e pubblicare lo scoop, ma la famiglia lo difese dai loro assalti. Morì nel 1995, all'età di 63 anni. Wutterich, invece, riportò una mandibola rotta e altre ferite. Anche le gambe e un'anca rimasero compromesse. Non uscì dal coma per quattro giorni e la sua degenza in ospedale fu molto lunga, un anno. Le conseguenze fisiche e mentali gli provocarono diversi disagi e la sua fine fu molto simile a quella del suo compagno di viaggio di quel maledetto 30 settembre 1955. Morì ubriaco, a 54 anni, nel paese tedesco di Kupferzel, dopo essersi schiantato contro un edificio, il 20 luglio 1981. Fin dall'età di 23 anni, James Dean era sempre stato un grande appassionato di motori. Con il denaro guadagnato con la Valle dell'Eden, comprò un'auto sportiva, una MGTD rossa usata e un bolide a due ruote, una Triumph Tiger T110. Poi fu conquistato dall'ebbrezza delle corse su strada, prese una Porsche Speedster e vinse come principiante nella Palm Springs Road Races tra il 26 e il 27 marzo 1955. Ma alla Star, tutto questo non bastava. Come accade con il cibo, anche nel campo dei motori l'appetito viene mangiando, soprattutto se si vince. Le competizioni su strada dove James Dean gareggia sono sempre più numerose. Tra queste c'è la gara di Bakersfield dove trionfa, ma la fortuna gli è contraria, perché a Santa Barbara un'avaria al motore lo squalifica dalla gara nel giorno del Memorial Day. C'è però qualcuno, o meglio un mondo intero molto potente, intransigente e spietato, che non è affatto contento della passione di James Dean per l'alta velocità. È la mecca del cinema, Hollywood. La Warner Bros. gli proibisce di continuare a gareggiare, probabilmente per il rischio di perdere quella che ha tutte le carte in regola per essere una macchina da soldi. L'attore non può fare altro che rassegnarsi a malincuore e così obbedisce all'ordine. Il 21 settembre, alla vigilia dell'ultimo ciac del film Il Gigante, l'attore compra la Porsche 550 Spyder su cui troverà la morte. L'auto sportiva viene soprannominata Little Bastard, un nome dovuto alla definizione che Jack Warner, presidente della Major, aveva affibbiato a Dean. Piccolo bastardo, per il suo comportamento poco rispettoso, dei dettami cinematografici. Sfrontato e beffardo, James Dean passò provocatoriamente il soprannome di piccola bastarda all'auto con cui avrebbe dovuto gareggiare il 2 ottobre a Solinas. Un fatto è certo, esiste una vera e propria maledizione legata alla Little Bastard. Dopo il 30 settembre 1955, il motore venne venduto a un dottore che lo montò sulla propria auto. Due anni dopo, durante una gara, l'uomo venne coinvolto in un grave incidente e investì un addetto ai lavori. Un pilota amatoriale montò un semiasse della Porsche di Dean ed ebbe un incidente che lo fece rimanere paralizzato per il resto dei suoi giorni. Un altro patito di competizioni utilizzò due gomme montate in precedenza sulla Porsche che scoppiarono durante la gara e l'uomo rimase in coma per 14 giorni. L'auto continuava a passare di mano in mano e durante un trasporto messo in atto per una vendita, i sostegni del camion che la stavano trasportando si ruppero e un meccanico subì una frattura alla gamba. A quel punto diventò impossibile ricostruire l'auto come era in origine e quindi il National Safety Council decise di usarla come simbolo per una mostra itinerante che ammonisse contro i rischi dell'alta velocità. La Porsche girò tutti gli Stati Uniti e i visitatori della mostra potevano vederla per soli 50 centesimi con il monito categorico. Quest'incidente poteva essere evitato. Dopo altre peripezie tra cui un tamponamento e la rottura di una pedana che la trasportava, gli organizzatori dell'esposizione ritennero che fosse meglio rimandarla a George Berris, il costruttore e designer che nel 1956 aveva acquistato quel che rimaneva della Porsche. Nel 1960 l'auto fu rubata dal treno su cui viaggiava e Berris arrivò a offrire una cifra astronomica pur di riaverla, un milione di dollari dell'epoca. Alcune voci mai confermate dicono che nel 1979 si è passata addirittura per l'Italia e poi nelle mani di uno sceico saudita. Per altri la sparizione fu solo una messa in scena dello stesso Berris. Sono rumors ma contribuiscono ad alimentare ancora di più il mito della star e del mondo che gli gravitava intorno anche dopo la sua morte. I funerali di James Byron Dean, nato a Marion nello stato americano dell'Indiana l'8 febbraio 1931, si svolsero otto giorni dopo la sua morte a Fairmount, nello stesso stato che gli diede i natali. Parteciparono ben 600 persone e all'esterno del cimitero gli resero omaggio ben 2000 fan. Oggi, a ricordare James Dean, c'è una stella sulla Walk of Fame di Hollywood dove l'emblema del suo mito fa compagnia a tante altre star che hanno reso grande il cinema come Rock Hudson ed Elizabeth Taylor, coprotagonisti del gigante, Natalie Wood che lo affiancò in gioventù bruciata ed Elia Kazan che lo diresse nella Valle dell'Eden, il primo film del 1955 tratto dal romanzo di John Steinbeck che lo vide protagonista. Sono bastati questi tre titoli a rendere James Dean un mito, o meglio, un gigante.